Il questore di Grosseto Antonio Mannoni lascia in carico di questore un momento di riflessione, un momento di saluto, un momento per ragionare anche su questi tre anni in Maremma. Intanto voglio salutare e ringraziare tutti coloro con cui mi sono confrontato, rapportato. Gli stessi cittadini di Grosseto che hanno collaborato con noi attraverso le loro segnalazioni, che sono state tantissime, 32.000 telefonate in tre anni. Io sono molto contento di questo perché quando mi sono insediato una delle prime cose che dissi è che avrei voluto che la questura divienisse la casa di tutti i nostri cittadini. Sono molto soddisfatto intanto perché in primis non abbiamo consentito alla criminalità organizzata di infiltrarsi in questa provincia. Non in tutte le province, non in tutte le regioni possono dire altrettanto. Comunque abbiamo un calo nei reati commessi, nei delitti. Questo è una testimonianza, secondo me, della buona azione che abbiamo fatto sul controllo del territorio. Anche con servizi cosiddetti ad alto impatto. Il risultato è stato che sono incappati moltissimi cittadini extracomunitari clandestini. Abbiamo espulso 308. Chiaro che questo però non sempre viene percepita perché poi è sufficiente che ci sia una rissa, uno scontro tra extracomunitari che può portare a pensare che la situazione è fuori controllo. Noi possiamo tentare di fare tutto tranne di prevedere che tra di loro hanno una diversa cultura, diversa educazione della nostra, spesso sono abituati a risolvere i loro conflitti in maniera violenta. Interveniamo a reprimere, ma non possiamo prevenire questo. Crea una percezione di insicurezza. L'immigrazione sicuramente esiste, la dobbiamo gestire, dobbiamo conviverci e quindi bisogna anche capire che Grossetico non ha avuto in passato queste presenze. Piano piano queste presenze stanno arrivando, i cittadini dovranno tenere conto anche di queste presenze e non pensare per questo di sentirsi meno sicuri.